ciao a tutti oggi prepareremo il mojito alla fragola o pink mojito il tempo di preparazione della ricetta di tre minuti più il tempo di raffreddamento ingredienti sono zucchero di canna lime foglie di menta rum bianco soda fragole e martini rosè andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna e lo facciamo polverizzare dieci secondi a velocità 10 veniamo un po sul fondo del boccale aggiungiamo le fragole chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per dieci secondi a velocità 10 adesso aggiungiamo le foglioline di menta chiudiamo sempre con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per cinque secondi a velocità 6 guardiamo dal coperchio prendiamo un po sul fondo del boccale aggiungiamo la soda il martini rosè il rum bianco e il succo di lime chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo mescolare per un minuto a velocità 1 il moito alla fragola è quasi pronto se lo gradite è possibile filtrarlo comunque va riposto in frigorifero per almeno un'ora o in congelatore per almeno mezz'ora prima di servirlo moito alla fragola o pink moito grazie e alla prossima ricetta grazie 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 a tutti.